Sfida. Paola Bertazzoni, ufficio acquisti di Consorzio Gourmet da febbraio 2015 e responsabile vendite di Gourmet UK. Definire Gourmet con una parola mi viene in mente sfida. Dal 2021 Gourmet ha creato e fondato la propria LTD Inghilterra, quindi Gourmet UK. Quando nel 2021 abbiamo fatto questa scelta è stata una volontà di accogliere una sfida, quindi sostanzialmente bisognava accogliere la volontà e il desiderio di Gourmet di internazionalizzarsi e portare sempre di più all'estero i propri fornitori, i propri partner, i propri soci, ma anche la volontà di poter creare un proprio business all'interno di un paese estero. Quindi l'Inghilterra ci apriva le porte e noi pensavamo che fosse opportuno trasformarsi. Trasformarsi senza naturalizzarsi ma prestando la misura per il mezzo per far conoscere i prodotti italiani all'estero.